Da nove anni e due mesi a cinque anni e due mesi uno sconto di pena di quattro anni per Alex Danut, il rumeno che uccise, travolgendole con la sua auto, madre e figlia a Salleo alle porte di Arezzo. L'uomo, che si era messo ubriaco alla guida, travolse le due vittime nel centro abitato del paese mentre stavano tornando a piedi da un compleanno. Le investì con la sua minicar nei pressi di una curva e per loro non ci fu scampo. Subito dopo la tragedia venne arrestato dalla polizia municipale di Arezzo e si scoprì che nel sangue aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. In primo grado venne condannato a nove anni e due mesi di reclusione senza attenuanti per omicidio colposo plurimo. Alla Corte d'Appello di Firenze il suo difensore, Carmen Capoccia, ha chiesto uno sconto di pena. Richiesta accolta. La sentenza di primo grado è stata riformata da nove a cinque anni. Le motivazioni si conosceranno soltanto entro 60 giorni, ma è indubbio che è una sentenza che farà molto discutere. La notizia della morte di Marzanna, 51 anni, e della figlia Letizia Fiacchini di appena 10 venne accolta con dolore da tutta la città e in loro memoria venne organizzata anche una fiaccolata dove non mancarono le polemiche. Dopo pochi mesi sarebbe entrato in vigore il nuovo decreto legge che prevedeva il reato di omicidio stradale. Il papà di Letizia, Luca Fiacchini, molto conosciuto in città, non si dà pace e affida a Facebook il suo primo commento me le hanno uccise una seconda volta, non c'è mai pace. Adesso potrà partire anche la causa civile per il riconoscimento del danno. Una provvisionale è già stata versata dall'assicurazione.